Nei giorni scorsi il sindaco Cicchitti aveva inviato una diffida riguardo la chiusura dei reparti di chirurgia dell'ospedale di Atessa sia al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso sia al direttore generale dell'ASL Francesco Zavattaro e per conoscenza anche al prefetto. Oggi ne ha inviato un secondo esclusivamente al presidente D'Alfonso. Già ci aveva accennato le motivazioni che ci ripete ai nostri microfoni. In effetti la prima diffida, quella di un discorso, era rivolta al direttore generale dell'ASL e per conoscenza al presidente D'Alfonso, al prefetto, al collegio di direzione dell'ASL e quindi praticamente mirava appunto a revocare e annullare quel provvedimento del 30 marzo che appunto ha sancito la sospensione dell'attività chirurgica dell'ospedale civile di Atessa. Questa mattina invece dopo aver riflettuto da qualche giorno ho inoltrato al presidente D'Alfonso nonché commissario ad Acchita della sanità abruzzese una diffida affinché lui provveda con una successiva diffida al commissario, al direttore generale dell'ASL a revocare quel provvedimento che si tratta di un provvedimento illegittimo il commissario presidente D'Alfonso non può continuare a far finta di non capire lui l'organo regionale della sanità abruzzese che è l'organo sostanzialmente di controllo della sanità abruzzese e deve far rispettare la programmazione regionale in atto la programmazione regionale in atto è ancora quella del 2010 di Chiodi che prevede per l'ospedale dell'Atessa l'attività chirurgica quindi da qui si desume che appunto il provvedimento zavattare è legittimo e appunto come dicevo il presidente D'Alfonso in qualità di commissario ad Acchita per la sanità abruzzese deve dare risposte concrete non può continuare a far finta di non capire è lui l'unico vero responsabile e quindi deve diffidare il direttore generale affinché rimuova quel provvedimento in tempi strettissimi questa è la realtà dei fatti io credo che in questi giorni il problema si stia deviando certo dobbiamo guardare anche al futuro dell'ospedale di Atessa ma dobbiamo azzerare quel provvedimento e ripartire attraverso un dialogo e solo allora possiamo guardare con fiducia alle prospettive dell'ospedale di Atessa tanto più che se si parla di sicurezza non si sono create delle alternative valide si vanno ad intasare altre strutture sanitarie con notevoli penalizzazioni per i cittadini ma ormai è così evidente basta pensare gli articoli di stampa le interviste che ci sono state televisive che ci sono state a figure della chirurgia dell'area chirurgica dell'ospedale Lanciano è comprensibile cioè oggi quell'utenza che fino a ieri è stata assolta dall'ospedale di Atessa oggi si riversano altri ospedali cioè praticamente siccome bisogna dare priorità all'emergenza urgenza si capisce che la programmazione che invece si svolgeva presso il nostro ospedale viene messa nel cantuccio da parte e qui è chiaro che le liste di attesa non possono che allungarsi è inevitabile cioè praticamente in un momento di difficoltà le liste di attese per quanto riguarda le attività chirurgiche si chiudono tre sale operatorie Se non avrete ottenuto delle risposte a stretto giro dalla giunta regionale quali sono le vostre prossime azioni? Ma niente noi stiamo valutando altre azioni innanzitutto c'è un comitato locale che sta portando avanti con molta saggezza devo dire molta attenzione un'azione più che di protesta un'azione tendente a far capire le vere ragioni di questa difesa per l'attività chirurgica del nostro ospedale che poi ne consegue anche altre ricadute sostanzialmente perché non dobbiamo illuderci una volta che cessa l'attività chirurgica vengono meno le attività di pronto soccorso quindi gli accessi si riducono notevolmente ci sono tanti aspetti negativi certamente io penso che gli atessani il territorio atessano i cittadini del territorio atessano che fa capo all'ospedale di Atessa non se la bevano sulle affermazioni in difficoltà, in difesa del segretario PD Andrea Di Gola il quale dice che bisogna riprogrammare guardare diversamente l'attività di questo ospedale ma che ci vuole tempo cioè praticamente accetta supinamente il declassamento la chiusura del nostro ospedale e si fida delle promesse che verranno in futuro probabilmente ci chiuderanno l'adduzione idrica nelle nostre abitazioni e poi dopo mesi e anni in mancanza di acqua ci porteranno l'acqua con l'autobot questo è sostanzialmente quello che sostiene che sostiene appunto Di Gola e poi ci vorrà far credere che praticamente dal momento in cui siamo senza acqua da anni il PD ci porta l'autobot beh se questo se tutto ciò è la programmazione e l'attenzione del PD nella sua interezza verso la sanità abruzzese ma nello specifico verso il nostro ospedale beh io credo che dobbiamo incominciare veramente a ribellarci e far sentire la nostra voce con più convinzione e più forza perché vuol dire che qui non ci sono più regole democratiche del resto lo vediamo con tutto ciò che sta accadendo a livello centrale a Roma dove c'è una sola persona che comanda a Roma a Roma